Ci troviamo a Taranto, nella centralissima Corso Italia, nelle vicinanze dei resti dell'Acquedotto Romano, una zona di pregevole valore archeologico immersa nel degrado più inquietante. Ne parliamo con il dottor Francesco Pasculli, agronomo. Storia, ricchezza del patrimonio archeologico, assoluta incuria. Questa sì, effettivamente è un'altra situazione piuttosto degradante della città. Io premetto che il rione Italia, il rione nel quale noi ci troviamo, effettivamente potrebbe essere un rione turistico, perché qui, oltre alle scinte difensive, all'Acquedotto che abbiamo alle nostre spalle, ci sono anche delle tombe a camera, c'è la famosa necropoli di Via Marche. Quindi è un rione che ha il suo perché, cioè dopo il borgo e la città vecchia, è un rione che potrebbe creare economia. In questo caso, purtroppo, l'abbandono regna sovrano, considerando che questi sono dei resti di epoca repubblicana, caro Luigi, quindi del massimo splendore dell'impero romano. E vediamo come in cui le piante stanno effettivamente... Vegetazione così spontanea. Spontanea che sta di fatti rovinando. Selvaggia. Selvaggia, sta rovinando perché le radici comunque danneggiano i reperti archeologici. Quindi in questo caso sarebbe effettivamente importantissimo. Non c'è solo l'aspetto estetico, ma anche proprio... Cioè qui, se noi non interveniamo, sia nell'eliminare queste infestanti, sia andare a eliminare altre infestanti come l'Aelantus Altissima, che è il cosiddetto albero del paradiso, che qui cresce. Adesso non lo vediamo perché è in inverno. Queste strutture quindi potrebbero venire giù clamorosamente per incuria. Io dico, ma quanto costa nulla, detto volgarmente, tagliare un po' di erbaccia, sradicare un po' di erbaccia, tanto più che vi sarebbero anche dei volontari disponibili? Assolutamente sì, io penso che, credo sicuramente che si potrebbero anche creare una squadra di volontari che potrebbe tranquillamente pulire l'area, renderla decorosa. Cioè, parliamoci chiaramente, in qualsiasi altra città al mondo questo potrebbe essere un giardino con delle visite guidate, turistiche, con un'illuminazione per esempio di notte, l'architettura... Un gioco di luci. Un gioco di luci, cioè voglio dire, è una zona che potrebbe... cioè, riqualificare queste mura significa riqualificare un grosso pezzo del rione. E allora l'appello al sindaco, Melucci, l'appello al vice sindaco che è assessore all'ambiente, il dottor De Franchi, beh, mettiamoci un po' di buona volontà. E vogliamo fare turismo e dobbiamo far vedere questa schifezza? Scusate, quanto costa? Lo ripeto, togliere un po' di erbaccia?